Presidente Fontana, una giunta rosto-nerazzurra, diciamo che siete divisi equamente, come finirà questo derby? Finirà comunque bene per Milano, io mi auguro meglio che vinca il Milano, ma finirà comunque bene perché una squadra sarà in finale della Champions League, cosa che non succede da tanti, da troppi anni. Assessore Guidesi a tinte nero-azzurre e sfegatate, come si avvicina questo appuntamento? In tranquillità prendiamo, diciamo che fortunatamente ci sarà una squadra lombarda in finale, evidentemente se quella squadra porti i colori in oro-azzurri sarà meglio. Sottosegretario Invernizi a tinte nero-azzurre, questo derby come finirà? Sicuramente vincerà l'Inter, anche se di solito nei derby vince sempre chi è più debole, quindi ho paura perché il più debole è sicuramente il Milan, però secondo me questa volta ce la faremo. Tra il rosso-nero della giunta regionale c'è anche l'assessore alla cultura Francesca Caruso. Assolutamente sì e speriamo insomma che il Milan vinca, comunque è un trionfo per la Lombardia. L'assessore Comazzi è addirittura presidente dell'Inter Club della Regione Lombardia, quindi è tutto detto. Ci sono tanti interisti qui in Regione Lombardia, tanti nostri collaboratori, siamo tutti in grande attesa per queste due partite molto importanti che segnano una grande vittoria per Milano e per la Lombardia e ovviamente noi interisti diciamo che il Milan vincerà facilissimo. I vertici della Regione dal presidente Fontana al vicepresidente Alparone parlano rosso-nero. Assolutamente sì, Milano è rosso-nero, la Lombardia è rosso-nero, partendo dal nostro presidente mi permetto di dire anche per il vicepresidente che ha questa maglia nel cuore da tutta una vita. Quindi noi tiferemo Milan, ma tifiamo prima di tutto Milano e la Lombardia, campioni d'Europa. Derby di Milano, derby di Champions League che assume assolutamente un carattere internazionale e chi meglio dell'assessore Cattaneo può fare un'analisi di carattere internazionale a tinte nero-azzurra. Beh, non è una battuta, stiamo parlando della semifinale di Champions League e quindi di un grande evento europeo e che questo avvenga qui a Milano, nel nostro stadio, tra le nostre due squadre. Quello più importante, l'Inter e anche quella minore, il Milan, che però ha meritato di arrivare un po' al di sopra delle sue capacità, ma certamente che questo evento avvenga qui a Milano, torno serio, è un segno della grande proiezione internazionale della nostra città e della nostra regione, che si vede anche in queste cose e dunque che le nostre squadre siano ritornate a questo livello che è quello che compete loro. Un livello di primato non solo in Italia ma in Europa e nel mondo è un elemento che ci riempie di orgoglio, ma ci deve anche far capire quanto è fondamentale per tutti noi che Milano stia e la Lombardia stiano al loro livello, tutti quanti, le imprese, la società civile, le istituzioni in Europa e nel mondo. E per concludere questa nostra carrellata ci rivolgiamo a un tifoso che non è né interista né milanista, è tifoso della Roma ma soprattutto è assessore al welfare, alla sanità della regione Lombardia, una partita che non va bene per i malati di cuore. Ah ma è certo, bisogna attrezzarsi perché sarà sicuramente al Cardiopalma. Comunque sarà una partita bellissima, dobbiamo essere tutti orgogliosi perché sono due squadre italiane che sono in semifinale di Champions, almeno riscattiamo la pessima figura della nostra nazionale con queste due squadre che hanno già portato tanto nura al nostro paese. Metà del mio cuore sarà per il Milan perché ovviamente sono legato per tanti motivi al Milan, l'altra metà sarà ovviamente per l'Inter visto che abbiamo lo Special One che oggi sta facendo miracoli anche nella capitale. e quindi davvero vinca il migliore e quelli che ci vanno si prendono magari due gocce di tranquillante prima così siamo tutti meglio.